Abbiamo parlato che il prolungamento della vita ha anche causato l'avvento di determinati disturbi che prima non c'erano, perché evidentemente uno che muore a 40 anni per una broncopolmonite come era allora, non certo morì per il disturbo di fegato perché il gallerenico funzionava. Quando noi oggi abbiamo portato l'età media a 83, la maggior parte di queste persone ha qualche problema, è impossibile che non ce l'abbia, ma forse degli antibiotici vanno ricordati anche tre cose importanti. Uno i trapianti, perché non è poco, oggi uno che ha un'annefrite con 90 probabilità su 100 fa il trapianto di rene e vive, perché qui a Arco ne abbiamo moltissimi che hanno un trapianto di rene. E poi un'altra cosa è anche l'igiene, perché quando io sono andato in farmacia, ragazzi, quando arrivavano con i bambini che erano fasciati, avevano le fasci, c'era un odore impressionante. Non parliamo poi delle donne che avevano le gonne lunghe fino in fondo, quando le alzeva la gonna per naratori soldi che era nella seconda gonna del borselin che era sotto con la corona. Ti saluto, Momolo. C'era un'igiene che era totalmente diversa, pensate solamente all'igiene femminile. I pannolini che oggi sono ricorrenti sono arrivati nel 54-55, prima le donne avevano un pannolino che veniva lavato in casa, quindi non c'era l'igiene che c'è oggi. Poi la cosa anche importante è anche nei bambini, perché adesso i bambini non vengono più fasciati come una volta, poi ci sono i pannoloni, usa e getta e quindi c'è un'igiene molto maggiore. Non c'erano le docce, i bagni non c'erano, quindi c'era un odore diffuso che era non il massimo. Ma una delle cose che ha cambiato anche la vita sono tutti gli ansiolitici, questi famosi farmaci che hanno diminuito l'ansia. Adesso io vi voglio raccontare come sono stati reclamizzati questi ansiolitici. Allora i primi sono stati i meporoamati, poi sono stati degli altri, poi finalmente è arrivato il diazepan che è il valium, il capostipide, le benzodiazepine. Allora la barzelletta che veniva raccontata è che il signor Rossi di una certa età aveva un'incontinenza, la quale gli dava fastidio, non c'erano ancora questi pannoloni come ci sono oggi per l'incontinenza, eccetera, e insomma il problema di dover urinare frequentemente e alle volte non riuscire neanche ma avere delle perdite prima determinava un problema. Questo costinnava ad andare dal medico, il quale gli aveva dato prima la bella donna, poi gli aveva dato un altro farmaco, poi gli aveva fatto anche di cose. E' arrivato il diazepan. Allora il medico quando è arrivato gli dava il signor Rossi, guardi provi a prendere questo farmaco. Il signor Rossi non si è più presentato in ambulatorio, il medico, era un paese anche un po' grande, ha detto, boh, che sia morto il Rossi? Io non l'ho mai visto. In casa doveva andare fermato, ha visto il signor Rossi? Si è sviluppato il giorno a spasso? Anche ancora, si, si. Va bene. Un giorno va per stare, incontra il signor Rossi. Il signor Rossi dice, ma lei è un secolo che la vedo, la vedo bene. Si, si, guardi sto proprio bene, guardi, bene. Dice, mi levi una curiosità, ma è quel disturbo? Ah, dice, guarda, dice, dottor, come prima, ma in compenso, non me ne importa un cazzo. Cioè le benzodiazepine veramente hanno dato alla preoccupazione una dimensione diversa. Cioè un certo senso di me ne frego, è vero. Cioè le benzodiazepine sono riuscite a dare a certe persone una dimensione diversa di quella che è la preoccupazione. Cioè la preoccupazione rimane, ma non dà più quel senso di ossessione, odio nel fago, cosa succederà, odio, odio. Le benzodiazepine sono riuscite a dare questo senso di me ne frego. È un termine un po' esemplificativo, ma è la verità. La benzodiazepina è riuscita a cambiare la vita di molte persone. Molte persone che non dormivano perché avevano un problema, hanno migliorato la qualità della vita. Il problema, uno dei problemi però che si è presentato oggi è il problema dell'infortunistica. Perché abbiamo l'infortunistica che ha portato veramente dei grossi problemi. Poi c'è il problema alimentare. Ai miei tempi ipativa la fame, che era la pelagra. Io mi ricordo la pelagra, ragazzi. Oggi mangiano troppo, abbiamo l'obesità e poi ci sono i problemi ambientali dovuti a intossicazioni ambientali, dovute a un'infinità di cose. La prossima volta vi parlerò di un altro argomento e parleremo di sanità. E sono pronto ad accogliere le ire dei nostri cittadini.